Un'avventura bruttissima, io ho fatto anche il commerciante e quindi c'era da fare una gara d'apparto per uno stabilimento balneare, non faccio nomi perché poi diventa indicativo, lo vinsi, io da quel giorno che era metà marzo non ho più vissuto per un anno intero perché i soliti noti mi hanno minacciato, perché? Perché avevo un colore politico e hanno pensato che il partito mi avesse dato una mano, invece non è vero niente, ho fatto una gara d'apparto ma l'hanno fatta anche gli altri. Grazie a tutti.